Nella relazione con le aziende è lui che riscatta il design più che il design che riscatta lui. Il progetto finalmente. L'unico che posso offrire è l'acqua, il caffè e il giardino. E penso che è un buon start. In una città che è un po' come Tel Aviv, quindi avere una piccola piccola di dolce e poter comprare, per me è molto importante. Non c'è nulla cosa che una persona normale potrà accettare come casa, quando si può sentire completamente comfortable. E tu decidi se vuoi raccontare come le persone approcate a te, o se vuoi ignorare. E sei chi sei. Grazie. Grazie. L'exhibition è quasi come una giornata di vita di dormire e l'observazione della mia immaginazione immediata. Sono un designatore, e penso che il punto inizio è sempre una funzione. Lo che ho cercato a fare con il mio lavoro, è mettere un tipo di ricordazione di dubbi in la nostra percezione. Strangemente, la maggior parte dei pezzi sono relazati con gli obiettivi che sempre usiamo, ma in questo caso, stiamo cercando di rappresentare qualcosa di più oltre loro funcione. Il punto inizio è una linea di dimensione, ma se guarda più vicino, vedete che il tutto è stato completamente twistato, e non c'è solo un passaggio, ma questo passaggio ciò 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 ciò. L'obiettivo che mi sono più intima con era un pennellino e un pezzo di paper. Mi volevo in un modo benzire il pennellino per creare un posto. Naturalmente, per me il posto era un potenziale casa. che miVIDo in un pozzo di tali all'ara. e il più che si entra in, il più che si senti. Non posso chiedere, quindi faccio così molte, così molte possibilità o così molte risposte per una domanda. Quale è la realtà e come vedo la realtà? Vedo un amico di cui sapevo un potenziale pazzesco, che mi sembrava un uomo sempre pronto a aprirsi, a esplodere, che non ce la faceva, che improvvisamente è riuscito a aprire le finestre, a guardare fuori, a buttare fuori i suoi sentimenti, una persona pazzesca con un talento veramente particolare, è una mente che sembra contorta, forse un po' lo è, ma in realtà è molto lineare e supportata da un atteggiamento così libero che è poesia. Mi piace molto che ci sia un'occasione per far vedere al pubblico che non conta la categoria, ma conta la poesia e il metodo. Il suo progetto si può sviluppare in modo molto artistico, ma si può sviluppare anche in modo molto industrial, perché lui è molto partecipe a questa situazione, ma anche nell'industrial lui riesce a creare delle diversità, riesce a creare l'industrial vero e riesce a creare l'industrial artigianale. Quella mostra qua l'ho vista dentro Ron, dal primo giorno che l'ho incontrato, un po' in realtà sugli scaffali di quel suo posto in cui l'ho conosciuto, e un po' conoscendo lui personalmente, vivendoci, è una mostra molto emozionante. Made in Italy, you know, it's something, I mean, this whole exhibition could not have been materialized without the manufacturers in Italy, and this relation and backstage that is backing the whole project. It's really chapeau to these people who said, okay, we'll go on it. I don't work with brands, I work with people. Both sides are taking certain risks, and I think that's what makes it special and makes it alive. When you're going to the unknown, I think that it's much more... In all my trips in northern Italy, I documented all my travels to and from the factories and the companies that were assisting with producing the exhibition, just taking my little camera, and I was filming all these trips, just squeezed them into three pixels, just, you know, dots of flight that represent this whole process. He succeeded kind of to relate to the history, to relate to the materiality, but still find ways to lift it in the air. C'è un latente, ma forte, atteggiamento politico in quello che lui fa. Nel senso che i messaggi che manda sono un po' subliminali, ma molto forti, e dall'altro lo fa in un modo, però, come si vede, quasi, quasi leggero. Comunque riesce, in ogni caso, anche se ti aspetti una cosa da lui, a stupirti. Comunque riesce, in ogni caso, è un po' subliminali, ma sempre voglio arrivare a un po' subliminali, 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 e è molto, molto difficile di subliminali, quando sei così stricato. The place where I will feel the most free will be inside a prison, where I know that no one can enter besides myself. I will feel the most free will be inside a prison, Grazie a tutti.